Stamattina alle 8.45 apro PlayStore, mi scarico il gioco da combattimento, da fulure, scegliamo gigantina con gli amici e andiamo a giocare a Fortnite Rap, Rap, combatti tu, combatto io, chi vince perde, chi perde vince, sei fortunato, sei sfortunato, e allora sei Fortnite Rap, Rap, e dieci sono passate, il latte sulla fredda, arrivo l'omoragno e il vide anche no, Glu, Glu, Fortnite, Rap, 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 Scusami, mi passi la Nutella con la cioccolata, la metto nel pane, la passo con gli amici, arrivo a Fortnite, e si pappa, il mouse fatto di cioccolata, e Nutella, è buona la cioccolata, è buona la cioccolata, Fortnite Rap, Rap,